La disco music non è mai morta, ha sempre continuato con un altro nome, con dance music, perché la gente deve e vuole ballare. Sono stato fortunato, ho lavorato sempre con degli artisti molto bravi, Blondie, David Bowie, certamente Donna Summer con cui ho fatto almeno 6-7 album. Non ho mai pensato di fare DJ, poi per caso mi hanno invitato a New York, a una discoteca, è stato un successo. Ogni tanto mi sembra quasi di essere Michael Jackson, con 20.000-30.000 persone che ballano, che urlano, che si agitano, quindi è una cosa stupenda. Io sono nato per far ballare la gente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.